Dobbiamo continuare ancora lungo questa strada, dobbiamo attendere che il piano dei vaccini possa essere operativo, dobbiamo attendere le cure monoclonali. Arriveranno tutte col nuovo anno, però è chiaro che questo sarà un Natale diverso da tutti gli altri, non meno autentico. Un Natale singolare ed inedito, quello che ci aspetta, lo dice il Premier Conte che ieri ha presentato le nuove misure raccolte nel DPCM in vigore a partire da oggi fino al 15 di gennaio. Prevale la linea dura ed il rigore per un Natale blindato, necessaria, spiega Conte, per scongiurare una terza ondata. Queste le misure principali. Nessuna speranza per gli impianti sciistici, confermati chiusi fino al 6 gennaio. Per lo stesso periodo vale anche lo stop alle crociere. Prevista la quarantena per chi rientra dall'estero tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio, anche per gli stranieri che arrivano nel nostro paese. Restano aperti i ristoranti degli alberghi di tutte le regioni, ma il 31 non sarà possibile organizzare cenoni e veglioni. Sarà permesso solo il servizio in camera. Per quanto riguarda la scuola, riprenderà la didattica in presenza al 75% per le scuole superiori a partire dal 7 gennaio. Per bar e ristoranti, invece, le restrizioni cambiano in base alla zona. Se rossa e arancione, sarà permesso l'asporto dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio. Mentre in zona gialla, i locali potranno restare aperti fino alle 18 anche nei festivi, ma ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone se non conviventi. Allungato l'orario di apertura dei negozi, che quindi potranno prolungare l'attività fino alle 21, mentre nei centri commerciali, nei festivi e prefestivi fino al 15 gennaio saranno aperti solo alimentari, tabacchi, farmacie, edicole, sanitari e vivai. Tra le misure più discusse, gli spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietati tra regioni se non per comprovati motivi, anche per raggiungere le seconde case. Il 25, 26 e 1 gennaio bloccati gli spostamenti anche tra un comune e l'altro, ma sarà sempre possibile tornare nel proprio domicilio e potersi muovere per motivi di salute o altre necessità. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, che a Capodanno però diventeranno le 7.